Accordo ancora da fare per Bussola domani, mai stipulata la convenzione tra il comune di Camaiore e Mimbo d'Alessandro per i concerti annunciati oltre un anno e mezzo fa. Forza Italia va all'attacco del sindaco, il promoter conferma, finché tutto non sarà a posto io non parto, l'obiettivo si sposta ancora sul 2020. Stadio chiuso, obiettivo Viareggio Capp, l'assessora allo sport Sandra May interviene nella commissione convocata dall'opposizione a oltre un anno dalla chiusura del Torquato Bresciani. Per la riapertura a febbraio, spiega, necessaria la collaborazione di tutti, tifosi e politica. Via i colori, arrivano i numeri, rivoluzione al pronto soccorso, da Mattelì cambia il metodo per definire l'urgenza degli interventi nel reparto di emergenza. Entro fine anno, nove medici giovani in più. Dal club nautico, il rombo del Ricler Team. Serata d'eccezione per la presentazione della squadra tecnica guidata da Renato e Ricky Ricler, pronta a partecipare alla prossima edizione della prestigiosa corsa Parigi Dakar, una vetrina dell'eccellenza versiliese. Sport versiliesi in affanno nel campionato di serie di Real Forte Querceta non va oltre il pari, domenica pomeriggio in casa contro il Borgo Sesia. Il Seravezza nell'anticipo va K.O. 2 a 0 contro il Chieri. Buonasera dal TG Noi della Versilia, ben trovati a questo appuntamento. Come abbiamo sentito dai titoli, Bussola domani è ancora ferma. Manca l'accordo con Mimmo D'Alessandro e tutto è rimandato alla prossima stagione. Vediamo. Un'altra estate si è chiusa in Versilia senza veder decollare Bussola domani. La stagione che ha portato 80.000 presenze complessive per Giovanotti a Viareggio e una decina di concerti nella neonata Arena del Cinquale ha lasciato fermo al palo il grande spazio recuperato due anni fa a Lido di Camaiore. Salvo il concerto di giugno con Alex Britti di Radio 2 Summer Tour che però niente a che vedere con l'accordo annunciato un anno e mezzo fa con la D'Alessandro e Galli che doveva portare sul viale Kennedy in esclusiva artisti internazionali da decine di migliaia di spettatori. Ma proprio il grande silenzio di questi mesi ha scatenato le opposizioni in Consiglio Comunale che oggi rivelano la convenzione fra il Comune e la società che organizza da 20 anni il Summer Festival di Lucca non è ancora mai stata stipulata e tutto è fermo. Cos'è successo dal 23 di aprile 2018 quando è stato sottoscritto il protocollo d'intesa con l'azienda che tutti conosciamo e poi non ha fatto seguito alla stipula della convenzione. Quali problemi sono sorti? Che tipo di problemi? Cioè è l'azienda che si è tirata indietro? Sono tutte cose che i cittadini di Camaiore si chiedono tutti i giorni, vogliono sapere le categorie economiche. C'era grande attesa, c'era stata grande pubblicità, grande sbandieramento di faccia chiarezza, ammetta che a oggi sul campo non c'è niente, si riparta iniziando con una procedura di gara per l'individuazione della società che possa realizzare degli eventi. Ricordiamo che l'amministrazione ha speso circa oltre 1.300.000 euro per la riqualificazione dell'area. A oggi un investimento così importante non ha avuto ricadute significative sul territorio per le categorie economiche. Tirato in ballo, il sindaco Alessandro Del Dotto preferisce non commentare e il diretto interessato al TG Noi, Mimo D'Alessandro, tenendosi a distanza dalla bagarre politica, conferma che in realtà non c'è ancora alcun accordo. Stiamo lavorando, ma finché tutte le cose non andranno al loro posto, io non vado avanti, commenta brevemente. E dunque, l'estate 2020 sarà la volta buona? Sì, risponde l'aconico, se facciamo l'accordo. Un altro rebus da risolvere è quello del futuro dell'impianto sportivo Stadio dei Pini, intitolato Attorquato Bresciani di Viereggio. Stamattina c'è stata la Commissione Sport, vediamo nel servizio che cosa è emerso. Si è svolta lunedì mattina convocata dall'opposizione la Commissione Sport nella sala Matteo Valenti in comune per la questione dello Stadio dei Pini chiuso, ormai da oltre un anno. Erano presenti l'assessore allo sport Sandra Mei e il vice sindaco Walter Alberici, oltre ai componenti della Commissione, hanno assistito anche diversi ultras e tifosi del Viereggio che hanno sollecitato come gli altri l'apertura quanto prima dell'impianto sportivo. L'assessore Mei ha ribadito le intenzioni del comune, come della resta ha già detto nei giorni scorsi anche il sindaco Giorgio Del Ghingalo, di volerlo riaprire in occasione della prossima edizione della Viereggio Cup in programma a marzo e con il torneo femminile che è programmato per febbraio. L'obiettivo riguarda tutta la città, noi siamo disponibili, l'abbiamo già fatto stamattina, ad avere intorno a questo progetto dello stadio la città, la maggioranza, la minoranza, tutti i tifosi, perché questo è un tema che riguarda la città di Viereggio. E' certo che l'obiettivo è la Viereggio Cup, sapendo che ci sono dei passaggi da fare che saranno passaggi che faremo insieme ai tifosi, insieme alle forze di maggioranza e di opposizione. Adesso è stata fatta la gara per reperire un ingegnere che rediga un progetto per la messa in norma dello stadio e consentirne la riapertura. Noi vorremmo che non fosse un problema politico, di divisione politica, ma un obiettivo principale per la città di Viereggio, quello di avere il proprio stadio che funzioni in tempi molto ravvicinati. Entro la fine di ottobre è stata fissata già da adesso la Commissione Sport per fare il punto della situazione, con la speranza che finalmente si possa intraprendere davvero la via giusta per rivedere aperto lo stadio dei Pini Torquato Bresciani, che è un bene prezioso per tutta la città di Viereggio. Il risultato della Commissione Sport di stamani non è piaciuto alle forze di opposizione. L'assessore allo Sport, May, ha promesso a Mari e Monti ed è riuscito stamani a tenere buoni solo i tifosi del Viereggio. Ma non ha detto ciò che era importante, ovvero lo stadio sarà pronto e a norma completamente, ovvero tutto e non solo in parte rifatto per febbraio 2020, come promesso dal Sindaco, si chiede Alessandro Santini della Lega. Poi noi, conclude il consigliere, vogliamo sapere chi sarà l'ingegnere che dovrà seguire i lavori, abbiamo sentito, è stata fatta in proposito un provvedimento, è stato preso, che dovrà seguire i lavori, quanto costerà la messa in sicurezza e quando potranno partire i lavori. E sullo stadio è intervenuta anche Repubblica Via Regina, che dice in attesa che inizino i lavori allo stadio dei Pini e si passi dalle parole ai fatti. Noi di Repubblica Via Regina vogliamo ricordare anche le pessime condizioni in cui versa l'impianto sportivo Vasco Zappelli nel quartiere Varignano a Via Reggio. Poi, dice ancora la Repubblica Via Regina, anche su quell'impianto sportivo furono fatte tante promesse che non sono mai state realizzate. Ed ora occupiamoci di un incarico importante per il Sindaco di Massarosa Alberto Colucini, che è stato eletto membro del nuovo Consiglio regionale di ANCI, ovvero l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'elezione è avvenuta al termine della quindicesima assemblea congressuale di ANCI Toscana organizzata a Firenze, alla quale ha preso parte anche il Sindaco di Massarosa, accompagnato dal consigliere comunale capogruppo della Lega Elisa Montemagni. Si tratta di una carica e di un riconoscimento, commenta il primo cittadino di Massarosa, molto importante sia a livello personale che per il Comune che amministro. Per Massarosa è una novità assoluta, un'opportunità per il territorio comunale di Massarosa, ha detto ancora Colucini. E si è conclusa domenica 15 settembre l'operazione Mare Sicuro 2019 della Guardia Costiera di Vereggio sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Livorno, mirata alla salvaguardia della vita umana in mare, alla tutela dell'ambiente marino e costiero e alla vigilanza sul corretto utilizzo del demanio marittimo. Lungo i 22 chilometri di costa versiliese, i militari hanno passato al controllo tutti i 440 stabilimenti balneari, ricadenti nel territorio di competenza, da Torre del Lago a Forte dei Marmi. Tra le attività di maggior rilievo, l'indagine su due decessi avvenuti nelle piscine di due stabilimenti balneari la scorsa estate e numerosi interventi in mare correlati dalla Moria di esemplari di delfini a largo della costa. Come ogni estate non sono mancate le operazioni di ricerca e soccorso in mare da parte delle motovedette della Capitaneria. Sono state soccorse otto unità da diporto e sono state salvate 41 persone, 24 diportisti e 17 bagnanti. Imponente anche il dispiego di uomini e mezzi in occasione dei due interventi e dei due eventi del Giova Beach Party. In totale nel periodo compreso tra giugno e il 15 settembre sono stati fatti 3.438 controlli nel territorio di giurisdizione della Guardia Costiera, sia a terra che in mare, da cui sono scaturiti 242 verbali amministrativi e 5 comunicazioni di notizie di reato. Andiamo a Pietrasanta, nuova scuola materna Marsili, più luminosa e accogliente per il primo giorno di scuola. Apre il cantiere anche lo Scooby-Doo, 270 mila euro l'investimento. Un'amministrazione che non investe nella scuola è un'amministrazione che non ha visione del futuro. Ha esordito così il sindaco di Pietrasanta, Giovannetti, dando un calcio alle polemiche, durante l'inaugurazione della nuova materna Marsili nel quartiere Africa. Davanti a genitori, insegnanti e bambini, ha rivendicato la bontà di tantissimi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui plessi di tutto il territorio, scacciando ogni tentativo di polemica in merito ai ritardi per la riapertura senza far perdere nemmeno un giorno di scuola ai bambini e arrecare disagio ai genitori. Ora la Marsili è un plesso modello con ambienti più luminosi, accoglienti e sicuri e servizi igienici a misura di bambino. Domani intanto, ha annunciato il sindaco, potrebbero iniziare i lavori anche allo scubidù. Investimento altri 270 mila euro per riaprirla. D'altronde, asile e materne sono la porta d'ingresso dei bambini nella comunità, quindi lavorare e investire per garantire ambienti sani, sicuri e stimolanti in tutta la città è certamente il compito di un'amministrazione attenta. L'investimento nella sola Marsili è di 150 mila euro in due mesi per rifare la pavimentazione, servizi igienici, oltre a una serie di manutenzioni sugli impianti, ma anche tinteggiature e infissi. Al taglio del nastro c'erano il dirigente scolastico del Comprensivo 1, Mirella Bertagna, il vice sindaco Elisa Bartoli e l'assessore all'istruzione e lavori pubblici Francesca Bresciani. Il dirigente Bertagna ha iniziato la sua carriera scolastica proprio alle Marsili e ha raccontato di aver ritrovato una scuola nuova e molto più accogliente. Ed è boom di partecipanti alla 27esima edizione di Puliamo il mondo che si è svolta nel fine settimana scorsa. Numerose le iniziative messe in campo, tra cui quella andata in scena in Versiliana, organizzata dal Comune di Pietrasanta, insieme a Lega Ambiente, associazione che da sempre promuove l'evento. 120 i bambini di asilie delle scuole elementari e medie, insieme ai loro insegnanti e genitori, ma anche dai comuni limitrofi, e il numero di adesioni più alto di sempre, che si sono armati di guanti, pettorina, sacchetti e cappellino di ordinanza per pulire il parco della Versiliana da carta, cartacci e rifiuti abbandonati dai soliti incivili maleducati. Alla fine della mattinata il bottino dell'esercito di Bebi Volontari, che hanno ripulito una porzione del parco della Versiliana di Fiumetto, era composto principalmente da carta e plastica. I rifiuti più strani trovati? Un sedile di una bicicletta, un cestino ed un vasetto per fare la pipì. Non solo raccogliere i rifiuti, ma anche capire perché non buttarli, un compito difficile affidato alle parole esperte di Giorgio Salvatori, decano delle battaglie ambientali e di Lucia Giannelli, educatrice per conto di Unicopa Tirreno, che ha parlato di consumatori consapevoli, cittadini responsabili e delle buone pratiche ecosostenibili. Restando a Pietrasanta, si è chiuso il sipario su Pietrasanta Film Festival. Tre giorni di proiezioni, 22 pellicole finaliste selezionate e 8 premi assegnati al termine della Cermessa Internazionale di cortometraggi. La rassegna di cinema breve è organizzata dall'Associazione Mondo Cinema di Patrizia Pacini e di Fabio Pompili Rossini, con il patrocino del comune tecnico e il contributo tecnico del comune di Pietrasanta. Tanti gli appassionati che nell'arco della tre giorni si sono immersi nelle proiezioni che quest'anno sono arrivate anche da Iran, Inghilterra, Stati Uniti e Spagna. A seguire la rassegna sono arrivati in questi tre giorni anche l'assessore degli eventi, Cosci, i consiglieri comunali Marcucci, Bigi, che ha presenziato alle premiazioni. Ed ora invece andiamo al pronto soccorso del Versilia. Addio ai colori, ci sono i codici numerici. Vediamo. Addio ai codici colore utilizzati fino ad oggi per definire il livello di urgenza al momento del triage in pronto soccorso. Da martedì 24 settembre parte anche all'ospedale Versilia il nuovo sistema regionale con codici di priorità numerici che vanno dall'1 dell'emergenza al 5 della non urgenza. Il modello è già partito negli altri ospedali della ASL Toscana Nord-Ovest ed ai primi dati sembra che questa modifica organizzativa sia in grado di distribuire la casistica con maggiore appropriatezza rispetto ai bisogni dei cittadini, con uno spostamento percentuale sui codici minori. La partenza del nuovo modello è stata differita a settembre, spiega il direttore del pronto soccorso del Versilia, Giuseppe Pepe, solo per una programmazione strategica motivata dal prevedibile picco di presenze estive, con gli accessi che in effetti nel mese di agosto hanno superato quota 9.000, confermando il reparto emergenza di Lido di Camaiore al primo posto sulla costa toscana per numeri. Non si tratta solo di un passaggio dai colori ai numeri, ovviamente. Le novità riguardano tutto il percorso, a partire proprio dal triage che non si limita più a mettere in fila i pazienti per essere visitati dal medico, dando priorità alle situazioni a maggiore gravità, ma orienta da subito i pazienti verso i percorsi di cura più appropriati. Altra nota positiva per il pronto soccorso, molto spesso al centro delle lamentere degli utenti, è l'arrivo entro fine anno di 9 medici. Si tratta di dottori, neolaureati, specializzandi, che andranno a rinforzare il personale. Un intervento che si inserisce nel pacchetto straordinario varato dalla regione, che in questi mesi ha assunto in tutto 43 giovani medici per gli ospedali toscani. E ora invece parliamo di emergenza clima e di gestione dell'acqua, gli esperti a confronto in Versilia. Esperti da tutto il mondo per una settimana in Versilia per discutere della corretta e virtuosa gestione del ciclo dell'acqua nel territorio apoversiliese, nell'epoca dei grandi cambiamenti climatici. È in programma dal 2 al 5 di ottobre il workshop internazionale dedicato a global warming, sostenibilità e gestione delle risorse idriche del territorio. Tre mattine di incontri a Villa Bertelli, con interventi di scienziati che porteranno i buoni esempi da seguire. E poi escursioni pomeridiane sulle Apuane e nelle aree umide da Carrara a Vecchiano. È una tavola rotonda conclusiva alla GAMC di Viareggio il 5 ottobre. L'iniziativa è del comune di Forte Remarmi e del comitato scientifico presieduto dal professor Mauro Rosi, supportato dall'Università di Pisa, Scuola Sant'Anna e CNR di Pisa. Piccheranno gli interventi di alcuni stranieri che vengono in particolare da Israele, dal Belgio, dalla Germania e dall'Olanda e da Malta anche, i quali porteranno delle esperienze molto interessanti fatte nei rispettivi paesi sulla gestione della risorsa idrica e che a noi potranno fare molto comodo per aiutarci a leggere e ad approfondire sia le problematiche e sia le soluzioni che possono essere adottate. Temi centrali nel dibattito internazionale proprio pochi giorni dopo la settimana di sciopero globale sul clima che ha portato e porterà migliaia di studenti in strada in tutto il mondo. Viviamo in un territorio che purtroppo ancora oggi soffre di grandi criticità dalla gestione delle acque in cava, poi c'è tutto il problema del sistema della falda, abbiamo il problema della depurazione delle acque che non è di semplice gestione. Il percorso che abbiamo iniziato l'anno scorso è coinvolgendo sette comuni di Veraschi e quest'anno siamo andati ben oltre coinvolgendo altri comuni, quelli interni, Seravezza, Stazzema, Massarosa e Vecchiano e anche i due parchi, Minenino, Sarasone e Massaciuccoli e il parco della Puane. D'altra parte l'unica maniera di affrontare i temi climatici è quella di collaborare tutti insieme. avere la presunzione che un singolo comune possa risolvere problemi è veramente follia. Club Nautico Versilia e R-Team, leader in ambito nautico e automobilistico, insieme per promuovere le eccellenze della Versilia in occasione della presentazione della Dakar 2020. Il Club Nautico Versilia spento 60 candeline e con l'attuale consiglio direttivo intende dare maggiore rilancio mediatico allo storico circolo, riaffermando il proprio ruolo di organizzatore di eventi sportivi e culturali con l'obiettivo la promozione della passione per il mare e il territorio versiliese. Sabato il circolo ha ospitato la presentazione della partecipazione di R-Team alla Dakar 2020, la gara più estrema e celebre al mondo, 12 tappe e oltre 9.000 km di corsa in programma metà gennaio 2020 in Arabia Saudita. R-Team fondata a Massarosa nell'89 da Renato Rickler è oggi la più importante struttura italiana specializzata nella gestione e nella legge di vetture da competizione per rally ride in tutto il mondo. Ma questa è una serata molto adrenalinica e molto divertente, è una serata in cui uniamo due realtà versiliesi che sono il club nautico e la R-Team che è la mia società che sono tutte e due coinvolte nello stesso turbinio di passioni. Ho fatto il calciatore professionistico per 10 anni oltre a tutta la parte giovanile però la mia passione è sempre stata il fuori strada perché le mie giornate libere, il mio tempo libero è sempre stato in officina a stare dietro alle macchine, a stare dietro a mio padre. Nel 2019 il team guidato da Renato e Ricky Rickler ha conquistato la 54esima posizione assoluta e la prestigiosa prima posizione nella classifica dei veicoli benzina derivati dalla serie con pilota Andrea Schiumarini che proverà a replicarsi nel 2020. Alla massacrante gara automobilistica parteciperanno anche due amici imprenditori lucchesi Pierluigi Fontana e Giulio Bertolli che come fecero i loro antenati hanno affrontato a bordo di una Fiat 2003 SQP del 66, una delle gare di rally riservata alle auto storiche più affascinante del mondo. Ci vuole sia passione che follia leggermente più di un pizzico, ma le due cose messe insieme permettono di fare queste avventure. Ho cominciato ad avere passione per l'auto quando avevo 5 anni, anche perché mio padre correva in macchina per tanti anni come gentleman driver e non come pilota ufficiale. E si è inaugurata in questi giorni nell'atrio del comune di Pietrasanta la mostra la francigena dell'arte, il cammino, la fatica, la gioia, la condivisione di questa esperienza interiore. Presente il sindaco Giovannetti, l'assessore alle tradizioni cosci e la presidente della fondazione CAV Liliana Ciaccio e oltre agli artisti. Il progetto della fondazione CAV, in collaborazione con il comune, si compone di 17 bozzetti di artisti italiani internazionali realizzati in occasione della Francigena Tiuscani Marathon 2019 in programma sabato prossimo 28 settembre. La mostra a ingresso gratuito è visitabile fino a domenica 29 settembre, da lunedì al sabato dalle 8 alle 14. Due sono le sezioni in concorso, del concorso che si divide in opere pittoriche su drappo e le opere plastiche. In mostra, per la sezione arte pittorica, anche Paolo Lazzerini, vincitore dell'opera Via Francigena, il magico cammino della vita, il drappo artistico di 2 metri per 20 dell'artista Pietrasantino, attualmente esposto lungo il campanile del Duomo di Pietrasanta, fino a domenica 5-6 ottobre. Per la sezione arte plastica, gli artisti hanno ideato opere d'arte capaci di interagire armoniosamente nel paesaggio urbano lungo la Via Francigena, attraverso la realizzazione di un elemento di arredo urbano, un oggetto iconico o funzionale e una fontana. Casebo della Lega a Viareggio, in soli due giorni raccolte 656 firme a sostegno di Matteo Salvini e contro il governo Conte, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle. Ottimo viatico, dice la Lega, per le elezioni comunali del 2020. Qualche attimo di pubblicità e subito dopo lo sport. Apriamo la pagina sportiva con il calcio, il punto di Roy Lepore sul campionato di Serie D. Ha pareggiato a Necchi Balloni il Real Forte Querceta 1-1 con il Borgosesi, a vantaggio dei Nerazzurri con Guidi con un gran colpo di testa e pareggio per gli ospiti di Ferrandino. Nel finale poi i ragazzi di Amoroso hanno sfiorato addirittura la vittoria con un gol annullato a Di Paola. Il pari permette di mantenere l'imbattibilità di entrambe le squadre che si confermano tra le più interessanti per proposti di gioco del girone. Dopo la partita è stata inaugurata una targa commemorativa in ricordo di Mario Carducci e Lida Moriconi, custodi del campo sportivo per 30 anni. Prima sconfitta stagionale da parte del Seravezza Pozzi per 2-0 sul campo del Chieri nell'anticipo di sabato pomeriggio. La squadra di Mister Vangioni ha ceduto nel finale della gara quando ha subito le due reti di Deriggi alla mezz'ora al 38esimo di Cecchi, un 1-2 con i quali i padroni di casa si sono aggiudicati una partita che nel complesso è stata equilibrata. Da recriminare il Seravezza ha il palo colpito da Giordani in chiusura del primo tempo. È terminato 1-1 anche il derby tra Ghibiborgo e Lucchese con i rossoneri che in 10 per l'espulsione di Dannelli acciuffano il pareggio al 93esimo con Falorni, pareggiando il rigore trasformato da Lucatti. Da segnalare anche il penalty, sbagliato da Cruciani per la Lucchese, tiro parato da Signorini. E ora passiamo all'Hockey perché il Forte dei Marmi ha messo una seria ipoteca sulla Supercoppa italiana. La Supercoppa italiana di Hockey su pista si deciderà a Forte dei Marmi mercoledì di sera alle 20.45 e dopo il nulla di fatto dei primi 50 minuti nella gara di andata sabato sera a Breganze è terminata 3-3. Scuccato e Burgaglia trascinano Breganze e Forte dei Marmi. Una bellissima prima partita stagionale che ha impressionato per ritmo e per qualità di gioco. Un primo tempo ad appannaggio del Breganze che ha subito risposto all'iniziale vantaggio di Burgaglia dopo appena 5 minuti che fissava il vantaggio con una splendida azione ravvicinata. Il Breganze rispondeva con un 1-2 micidiale del nuovo arrivato scuccato. In 11 secondi prima realizza con un tiro dalla media distanza poi si inventa un'alza e schiaccia in centro aria. In vantaggio per il 2-1 nei primi 25 minuti di gioco la squadra di casa senza il capitano squalificato Gerard Texido cerca nella ripresa di gestire il risultato ma i campioni d'Italia non lasciano nulla al caso. Falliscono un contropiede clamoroso di Cagias prima di arrivare al pareggio con un'altra invenzione di Maremmani al decimo minuto gol in tuffo. Poco dopo però i rossoneri ritornano in vantaggio sfruttando un tiro di rigore. Michians prima batte sugnata ma nella ribattuta riesce a superarlo. Il Breganze cerca in tutti i modi di salvare il risultato ma nulla può sulla rete a tre minuti dalla fine del solito spagnolo Burgaglia che trova anche un errore difensivo avversario. Finisce quindi 3-3 e il verdetto finale avverrà mercoledì sera con una gara di ritorno con il favore della pista della Forte dei Marmi che chiede ovviamente il sostegno dei suoi supporters. È tutto per lo sport, ancora un attimo di pausa e subito dopo l'aggiornamento delle notizie e la rubrica degli auguri. Non ci sono notizie in aggiornamento e allora la rubrica degli auguri. Oggi è il compleanno di Domenico Vetrò, dirigente del Centro Giovani Calciatori di Vereggio. Tanti auguri da conoscenti, parenti e amici. E tanti auguri anche ai fratelli Tosi, due leggende viventi del calcio versiliese. Per Federico in particolare è un compleanno speciale, visto che questo 23 settembre compie 40 anni, mentre il fratello Francesco, nato esattamente un anno dopo, ne fa 39. Entrambi festeggiano all'indomani della vittoria del loro Sporting Pietrasanta, 4-0 sul Corsanico nel campionato di prima categoria. Doppietta per Federico e un gol più un rigore procurato per Francesco. Buon compleanno ai due fratelli Tosi. È tutto per questa edizione del TG Noi della Versilia. L'appuntamento, come sempre, è per le prossime edizioni. Non resta che augurare a tutti voi una splendida serata. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.